La pillola è un'amica straordinaria delle giovani donne innanzitutto perché le mette in condizioni di iniziare ad essere donne in maniera completa, anche dal punto di vista sessuale, in piena sicurezza contraccettiva. Questo significa poter fare l'amore tranquillamente, poter farlo più volte, poterlo fare allegramente, senza preoccupazioni, sapendo che la mestruazione arriverà regolarmente, che non dobbiamo preoccuparci, oh mammo signore cosa è successo, sapendo che potremo non avere nessun senso di colpa per ritardi o per dover poi ricorrere a contraccezioni di emergenza o peggio, sapendo che il nostro corpo è affidato ad un'amica che ha cura della salute, ha cura della nostra fertilità e la protegge fino a quando non ci sentiremo pronte insieme a noi. Al nostro compagno, al nostro marito, al nostro fidanzato per avere un figlio. La cosa importante è che se una donna inizia ad assumere la pillola prima del primo rapporto sessuale, come sempre raccomando ai miei pazienti, ottiene un vantaggio in più, che può iniziare a far l'amore non necessariamente il giorno dopo l'inizio dell'assunzione, può iniziare anche mesi dopo. Ma la cosa importante è che anche tutta la fase di conoscenza reciproca, di apprendimento di quello che io chiamo l'alfabeto dell'amore, può avvenire in piena sicurezza. Perché sappiamo che a volte, anche nei giochi preliminari, ci possono essere delle situazioni che facilitano la fecondazione anche senza un rapporto completo. Quindi è bene essere in piena sicurezza fin dall'inizio e poter apprendere l'alfabeto dell'amore gradualmente, con la giusta intimità, con la giusta gradualità, sapendo che il nostro corpo è protetto dal punto di vista della fertilità, ma anche della salute. Accanto a questi aspetti, diciamo così, essenziali, che vedono la pillola come l'amica numero uno dell'intimità, della sessualità e della capacità, proprio partendo dalle aste, quando siamo ancora inesperte di incontri d'amore, a diventare proprio delle amanti di qualità, ecco che noi possiamo apprendere tutto questo linguaggio dell'amore, come dicevo, in piena sicurezza. Poi abbiamo tanti altri vantaggi che la pillola ci dà, per esempio i vantaggi per la salute. Li vedremo in un istante, la pillola ci dà una sicurezza non solo dal punto di vista contraccettivo, ma ci aiuta per esempio in tanti piccoli disturbi che hanno le ragazze, giovani, quando iniziano ad avere il loro ciclo mestruale. Per esempio, moltissime si lamentano di dolori mestruali. Ecco che allora la pillola ci aiuta a ridurre la dismenorrea, quindi il dolore mestruale, o addirittura a toglierlo del tutto. Ecco che allora è un'amica del nostro benessere. Riduce poi l'abbondanza del flusso, ed ecco che quindi noi possiamo fare sport, indossare abiti che ci piacciono, la minigonna, i jeans stretti, cioè avere una vita normale tutti i giorni del mese e non avere settimane bloccate solo perché abbiamo un ciclo eccessivo o molto doloroso. Ecco che allora possiamo avere nella nostra amica pillola non solo un'alleata per scoprire una sensualità e una sessualità felici, ma anche un'amica che ci aiuta a vivere meglio i primi segni della femminilità e in particolare le mestruazioni.